Sì, questo non è solo un momento difficile, questo è un momento che fa capire la politica quanto è povera. Quanto oggi c'è dei politici che pensano solo ai suoi interessi, pensano solo ai suoi numeri, pensano solo ai suoi interessi anche personali, perché non è possibile oggi, in una situazione di questa, mettere in crisi un governo a pochi mesi, comunque c'erano le elezioni. C'è grande rammarico, oltre che forte preoccupazione, negli ambienti di Confindustria, in questo caso ai nostri microfoni il presidente di Confindustria Toscana del Sud, per quello che sta appunto accadendo a livello nazionale con la crisi di governo. Le dichiarazioni del presidente arrivano a margine di una conferenza stampa sui fabbisogni occupazionali del settore e su una fotografia scattata dall'IRPET che comunque colloca la provincia di Arezzo, quarta in Toscana, rispetto all'assorbimento della mano d'opera nel settore manifatturiero. Ma questa crisi di governo adesso mette in pericolo tutte le misure che il settore si aspettava e soprattutto i fondi del PNRR. Ma tante misure, il PNRR, il PNRR era una cosa fondamentale, si rischia di arrivare tardi, si rischia di fare con esse credibili. Io spero che i populisti, a questo punto il suo l'abbiamo già fatto, nel senso io credo i danni hanno fatto, il populismo oggi, gli ultimi 4-5 anni, si è visto, si è visto tutti, quando uno è eletto per fare, per dire io sono contro l'Europa, sono contro il governo fuori da solo, io sono populista perché comunque noi siamo comanda, siamo tutti bravi, si presentano fuori dalla terrazza quando vincono e poi ha fatto il governo tutta la costituzionale. E' arrivato in fondo praticamente che ha detto, l'ha detto lui non io, che comunque lui si separa perché non è più populista. Allora diceva, ma chi ti aveva votato pensava diverso. Io veramente in questi momenti verrebbe la voglia di dire, io voterò qualsiasi partito che ci dice che si ha bisogno di meno politici in Italia e si ha più bisogno di politici europei, ci diranno delle linee. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore all'economia della Toscana, Leonardo Marras, anche lui si è espresso sulla crisi di governo. E' l'egoismo a cui ci ha abituato la politica italiana negli ultimi decenni, è irrazionale, non è nemmeno l'interesse particolare, perché io sono convinto che gli italiani puniranno questa scelta. Sando bene che ormai le bugie che vengono dette per sollecitare la pancia sono bugie che poi di fronte alla realtà si dimostrano quelle che sono e di conseguenza se ragionano e se votano, come io penso, con la testa, anche questo atteggiamento non ha prodotto nessun risultato in termini di vantaggio appunto nel particolare.